Presidente Cicchetti, oggi con Andil ripercorriamo dieci anni di ricostruzioni qui all'Aquila. Come invece è cambiata la vita di chi abitava e abita tuttora in città? La vita è cambiata radicalmente, è cambiata dal punto di vista delle consuetudini, delle abitudini, ma è cambiata soprattutto anche nell'approccio alla quotidianità. Adesso ne usufruiamo in maniera diversa, però ne usufruiamo forse anche in maniera più consapevole e questa rinascita di cui anche noi abbiamo bisogno la vediamo che va di pari passo con quella anche un po' sentimentale oltre che quella strettamente fisica. Ogni giorno un passo di più. Quindi c'è un progressivo riappropriarsi della propria quotidianità? Sì, esattamente. È ancora difficile, ancora il centro storico non è pienamente fruibile anche dal punto di vista commerciale, dello shopping, delle abitudini semplici, quelle del villaggio, benché l'Aquila sia una città molto importante. Ancora questo ci manca molto, manca molto soprattutto alle nuove generazioni, però riteniamo che forse il peggio finalmente dopo dieci anni sia passato. Se invece volessimo tracciare un quadro generale dal punto di vista della ricostruzione, come ANCE che cosa avete osservato? Come sta procedendo? Si parla molto, soprattutto in questi giorni, di modello l'Aquila, modello che può essere anche trasposto a nuove emergenze, a nuove catastrofi nazionali. Io lo dico, lo dico anche in questa circostanza, che il modello l'Aquila ha sicuramente funzionato, frutto di mediazioni istituzionali, relazioni interdisciplinari, però ritengo che noi abbiamo restituito ai nostri committenti, alla città più in generale, degli edifici più sicuri, degli edifici all'avanguardia per quanto riguarda il risparmio energetico, esteticamente ancora più belli di quello che erano già prima, già bellissimi, ed è una ricostruzione che si è posta sotto soglia fisiologica per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e anche per quanto riguarda le infiltrazioni malavitosi. Direi che è un processo, è stato un processo, continua ad essere un processo, però assolutamente virtuoso. Scendendo nel dettaglio, il laterizio, il mattone, è un materiale che si presta per il recupero degli edifici, soprattutto storici? Assolutamente sì, perché il laterizio trasuda storicità, trasuda anche dal punto di vista del restauro dei beni culturali, trasuda armonia con la città, perché l'Aquila sappiamo che è una città storica e quindi è un materiale che io personalmente, ma anche tutti i miei colleghi, soprattutto in questa fase della ricostruzione in cui si sta ricostruendo il centro storico e soprattutto le frazioni, è un materiale assolutamente armonico con il contesto che noi viviamo. E poi anche dal punto di vista strutturali, noi sappiamo benissimo che le prove di compressione, le prove di tenuta sono assolutamente ai massimi livelli e questo ci consente di restituire una città degli edifici belli dal punto di vista storico, perché il laterizio è bello, ma anche e soprattutto sicure. Grazie. 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 Grazie.